Tiene, diverse dose di hashish e marijuana sono state rinvenute all'interno di alcuni autobus nella stazione ferroviaria da parte della Guardia di Finanza, stupefacente che è stato abbandonato dai viaggiatori dei bus alla vista dei militari, coadiuvati anche da due unità cinofile. Si sono intensificati in questi giorni i controlli antidroga dei finanzieri dove si concentra un notevole flusso di passeggeri, soprattutto studenti, in particolare nelle prime ore del mattino al termine degli autobus e alla stazione. Una decina i mezzi pubblici controllati provenienti da Vicenza, Asiago, Caltrano, Calvene e Arsiero. 200 circa le persone controllate tra adulti e minori. Durante l'attività i finanzieri hanno inoltre contestato una sanzione di 1.000 euro al titolare di un negozio per aver venduto ad un minore liquido di ricarica per sigarette contenente nicotina. Nel caso di recidiva la licenza per l'esercizio dell'attività sarà revocata.